Musica Presero 84 barri di uranio radioattivo americano e ce le portarono in Basilicata No, non tutte 84, 82 le portarono in Basilicata, due le portarono alla Casaccia di Roma A nord est di Roma, a 25 km da nord di Roma c'è un deposito nucleare 6.800 pass, metri cubi di scorie radioattive sul torrente a Rune, due le portarono là e a 82 ce le portarono in Basilicata E mio padre bella cosa, bella cosa L'americano si hanno fatto il compo dell'oro dell'America e a noi della Basilicata vicino a Roma ne hanno portato la merda Ti hai ragione papà, questo deposito nucleare, queste barri erano proprio americane Avevano lavorato in un reattore americano che si chiama Mel Criver Erano così americane se pare che si avessero potuto parlare nella piscina Uriere dito, that's all right, quando erano americane Le presero all'America e ce le portarono in Basilicata vicino a Roma Ma all'epoca si usava così papà Avevamo fame Basilicata, Lazio, Lombardia, Piemonte C'era fame lungo il po' Ci portavano le centrali atomiche, le depositi nucleari Avevamo fame Pane, 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 lavoro, lavoro, lavoro Ci davano il lavoro a Caorso, a Saluggia, a Trino Vercellese, a Rotondella, a Latina Ci davano il pane, papà, a cui il pane era avvelenato Grazie a tutti